Ma per fare la tarantella, questo proverbio non vale, per una bella ballata è un numero di divertimento, ci sono i musicisti che fanno come a vento, non basta stare a musica per divertire la gente, ci vogliono i sonatori, i canzoni e gli strumenti, attaccate i sonatori e facite la più bella, dimostrate a tutto il mondo con la calabria, la tarantella! Grazie a tutti! Hai visto come balla bene Babbo Natale, guarda che bravo! Guarda! 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 Filippiamo Carmela Arlozza a ballare la taragna. Filippo Carmela Arlozza a ballare la taragna Filippo Carmela Arlozza a ballare la taragna. 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 Buonasera, abbiamo scoperto...